Scusa, stai ora solo a muovere, che ti faccio? Non stai buono a soli? Cosa? Come? Come? E chi vedi? Chi ha visto? Come hai visto? Un rumore. Un rumore. E chi ha fatto un rumore? Come? Ora ti dormi? No. Ma hai fatto un rumore. È passato un camion G. È tutto veloce. Oii, Gerry! Chi è? È girato di grigare. Si è formato, ora vieni. Oii, il canno. Oii, il canno. Oii, il canno. È girato di grigare. Come hai visto? Vieni, che è. Ha fatto vecchio? Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Allora, vieni. Si, mi fai fatto. Mi fai fatto in mezzo. Ho già scappato dentro il bacio, eh? Ha fatto ciò, eh? Si. Io ci sto facendo un altro. A cosa? Eh, cosa ti fa? Lo mi fai fatto? Lo mi metto in moto, ma, no. Lo mi metto in moto. ci vuole l'indirizzo sicuramente non devi buttare niente perchè... no! ma ne fai pure un chino ciao 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 dove vai? ti facciamo ma? dove? sono male, ti ha salutato sei affermato per venire a salutare oh sono aiuto, salutato madaglia? buongiorno 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 la piappa è che ti metti in casa che stai facendo male la capa però? non è meglio quello no no te la metto te la metto qua non è che la capo su come la capo su la capo su non è che la capo su davvero hai fatto il passaggio? parla tu metti da questa parte aizzi aizzi metti di qua ma c'è stato il passaggio parla tu aizzi che era già fatto aveva prima fa aizzi 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 Grazie. Maurizio Poi da mangiare Maurizio Sto accogliendo di piano C'è la roba che vi è impizzata in verso l'unico Come? Non lo tagliamo Come? No, non lo tagliamo Eh? Non lo tagliamo Vai là più forte, non lo sai Lo tagliamo? Non lo tagliamo Sì, non lo tagliamo Non lo tagliamo Ah, perché? Come? Come? Non lo tagliamo 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 Che è successo? Giannina Eh? Voi da niente Non lo tagliamo Non lo tagliamo Non lo tagliamo Giannina Non lo tagliamo 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 andiamo 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 faccia sapermi andiamo grazie andiamo 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 e andiamo e e salto a us Chi era? Non ce l'ha capito. Non ho capito. No, non ho finito. Come? Come? Come a mea perdi voi. Mi a perdi voi. Non l'ai perdi voi. 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 Non lo sai. e che ti fanno? io sono lì ci sono un'amica con chi ti fanno? guarda 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 Ho? Ho mamma. Ho c'è io da piedevo? No, c'è io da c'è. Ho c'è io? Vabbò giardavano? Vabbò giardavano? O che è? È Sambargelo. O che è io da lò? O bale di bale di bale di bale. Come? Vabbò giardavano. Cosa? Cosa? Vabbè, vabbè. Vabbè? 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 Non è così, buono. L'agro l'usso di buono. Come sai. Poi, io voglio direvra, voglio direvino a vondi. Sì, io vieno. Però io voglio direvra, non c'è mai. Io, no? Non è così che mi la pietta. Non c'è mai? Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Ma non. Come? Non è San Marco. San Marco non? L'amore? Non. Come? L'amore, non c'è mai? Non è un paese buono. Come è l'amore buono? Come? C'è mai. Carina. Quando c'è giù, c'è giù. Come è lì? Carina. Come? Perché cosa? C'è giù. C'è giù io? Ok. Parla tu? Eh, stai mai forse. Parla tu? Parla, parla. Parla tu, parla. Che c'è? Che? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.